Tra mercato e calcio giocato, in casa della Virtus Lanciano si lavora sul doppio binario all'inizio di un mese di agosto che si preannuncia davvero interessante. Domani sera alle 20.30 ci sarà però l'attesa sfida con l'Avellino nell'ambito del trofeo Guglielmo Maio. Si tratta di un test più che probante per i rossoneri di Roberto D'Aversa che avranno di fronte un avversario di pari categoria. Per l'occasione i tifosi rossoneri potranno vedere all'opera vecchi e nuovi giocatori prima dell'impegno di Coppa Italia del 9 agosto in cui saranno in palio i primi punti della stagione. Sul fronte mercato si lavora per completare la rosa. La partenza di Magnus Trist passato al Novara costringerà la società a reperire un difensore centrale di peso che possa compensare l'addio del danese. Non è da escludere anche il ritorno di Stefano Ferrario che si sta allenando con una formazione dilettantistica. Il direttore sportivo Luca Leone intanto stringe per il portiere Cragno dal Cagliari e Luca Crecco, centrocapista di proprietà della Lazio, ma lo scorso anno a Terni. Nelle ultime ore è spuntata anche la voce che vorrebbe la società rossonera interessata ad Antonio Rozzi, 21enne attaccante che lo scorso anno ha giocato con Bari e Virtus Entella, collezionando 15 presenze.